Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi voglio dirvi grazie, grazie a voi, grazie anche a Fantasia Store di cui lascio il link in descrizione Ovviamente sempre codice sconto, link affiliato con la quale grazie a voi Ogni volta mi rientro una piccola percentuale sulle vendite come sapete che utilizzo esclusivamente per il canale Grazie a voi voglio raccontarvi una piccola storia, è un po' stupida, cioè nel senso è alla fine un gioco di carte Però sapete tantissimo quanto sono affezionato io al vecchio Yugi, ma tantissimo perché ci sono cresciuto Quindi ci sono tantissimi ricordi, tantissimi momenti molto belli Con l'anime, con il primo gioco di carte, con la leggenda del Dragobio a Cocchi Blu Non l'espansione, ma la leggenda vera del Dragobio a Cocchi Blu E tutto il resto Quanto io ami il primo anime, quindi con il regolamento con 2000 LP, mostri senza tributo Roba impronunciabile per i giocatori odierni Quindi sono un po' nostalgico da questa parte, mi manca molto quello Yugi Ma come dico sempre bisogna comunque apprezzare quello nuovo Un po' di nostalgia come è sempre giusto fare Però che non intacchi anche lo Yugi nuovo perché anche lui ha tante qualità Detto questo io voglio ringraziarvi perché c'era un'espansione Un'espansione, vabbè Che praticamente racchiudeva tutto questo qui E grazie appunto a voi Con il link Dandomi queste piccole percentuali Grazie comunque a Fantasiasor che mi ha dato la possibilità di collaborare con loro Mi ha dato la possibilità di prendere una cosa Un piccolo box, sempre in lingua coreana Però un box che praticamente racchiude il 90% dell'infanzia E anche se le carte ovviamente non sono italiane e inglesi È stupendo Cioè, vi faccio vedere Perdonati metallici Praticamente qui dentro c'è tutta C'è tutto il regno dei due lanti Quindi il drago teschio nero Il drago revolver Il barrel dragon Il famosissimo barrel dragon C'è una carta che in realtà io vorrei tantissimo Poi vedremo se l'andremo a spostare Ovviamente il video unboxing lo porterò sul canale poi Però volevo prima parlare di questo qui Perché è grazie a voi che io sono riuscito a riprendere un pezzo Della mia infanzia Per me sembrava stupido ma è stato abbastanza importante Quindi L'ultimo pacchetto che presi di questo qui Era quando andai con mia madre da mia nonna Quindi non so quanti anni fa E quindi poterlo rivivere un'altra volta Con tutte le carte e tutto quanto Anche se, ripeto, in lingua coreana È veramente stupendo Grazie a voi Grazie al supporto che mi date Tutto l'affetto Insomma Che ogni volta C'è Perché c'è Perché lo vedo Si vede Anche nelle critiche Ci rimane comunque Quelle critiche ben volute E niente Questa è una piccola storia Un po' per condividere anche Quello che ho provato Perché magari quello che ho provato io Con il protone di metalli Qualcuno l'ha provato con altri set Con Yu-Gi-Oh! Anche Zexar Five Dis Vrain Perché no? Perché no? Quindi Questo è Io non vedo l'ora Cioè non vedo l'ora di aprirlo E sperare di trovare quella carta Che non è una carta rara Ma per manco per niente È un mostro fusione Che io quando lo trovai Rimasi in premi Rimasi impresso tantissimo E lo utilizzò Pegasus Contro Contro Kaiba Per chiudere il match Chi ha visto la serie Avrà capito Chi Non Chi magari non è riuscito a percepire la cosa Aspetta l'unboxing E niente ragazzi Detto questo Grazie a voi Grazie a Fantasia Che Mi avete dato la possibilità Di prendere questa cosa Io ero veramente Cioè avrei potuto prendere Qualsiasi altro set Anche Ghost from the Past 2 No Però ho detto No Però ho detto no Cioè ok Magari avrei portato un contenuto per voi Il migliore Il più attuale Questo ok Mi dispiace Perché comunque Meritate cose Così Però mi sono detto Voglio condividere Questa cosa qui E ci tenavo troppo Tenavo troppo A riprendere una cosa Di questo Di questo genere E spero di riuscire a prendermi Anche la legione del drago bianco Chi blu Prima o poi No vabbè Ovviamente non sempre Non sempre grazie a voi Poverini Questo mi dispiace Però Spero di riuscire a prendermi Anche quello lì E pian piano magari Prenderli tutti Sarebbe una cosa molto bella E niente ragazzi Detto questo Io ormai lo dico sempre Di default Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Però no Fatemi sapere le vostre esperienze Se ne avete avute simili Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video Un altro grazie E un saluto a tutti E un saluto a tutti